Qual è l'elemento fondamentale per una festa sorpresa ben riuscita? Tema? No, non è il tema. La musica. No, nemmeno la musica. E neanche la torta. Per una festa sorpresa sono fondamentali... Gli amici. Amici straordinari per una festa sorpresa. Basata sulle passioni del festeggiato. Volete organizzare una festa sorpresa per il vostro migliore amico e non sapete da dove cominciare? Seguite Ruggero e Valeria, i due party planner di... Get the Party! La nuova serie dal 21 aprile alle 20.15 solo a Disney Channel. La nuova serie dal 21.15 solo a Disney Channel.